In occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Rettorato è stata aperta anche la mostra di Giuliana Flavia Cangelosi che ha come tema tra linee e algoritmi un viaggio tra arte, architettura, design e tecnologia. Dopo aver brillantemente conseguito la laurea magistrale in Computation Design presso la Scuola di Architettura e Design di Unicam, Giuliana Flavia Cangelosi è attualmente una dottoranda in Innovation Design sempre presso Unicam. Per avere la passione del disegno è comunque la partita dalla Sicilia con l'Università di Palermo studiato il disegno industriale, però la spinta in più è stata con Unicam perché è con Unicam che ho riconosciuto l'innovazione e che attraverso l'innovazione noi possiamo rilevare delle soluzioni che possono essere efficaci per un futuro sempre più sostenibile. Infatti la cosa bella è stata quella di sperimentare il disegno tradizionale con le nuove tecnologie. Faccio un esempio, la realtà visuale, la realtà aumentata e l'immessione attraverso degli spazi a 360 gradi e così via. Quindi quello che esce fuori è sicuramente qualcosa di innovativo e emozionante, quindi qualcosa che va oltre la creatività che l'uomo in genere ha. Quindi approcciarci alle tecnologie possiamo andare sempre oltre. Attraverso il percorso del dottorato sto facendo un percorso abbastanza tosto che è basato su una ricerca scientifica, una ricerca sulla biomimesi e rilevare delle soluzioni in natura per un futuro sostenibile. La cosa tosta è quella di una sperimentazione proprio pratica attraverso degli strumenti avanzati, intelligente e artificiale, approcciandomi anche attraverso degli strumenti come matematica che è un software abbastanza complesso e chi lo sa domani mi piacerebbe, magari sto sognando in grande però magari è proprio il sogno che mi porta ad andare sempre avanti e mi piacerebbe costruirmi un centro di ricerca di biomimesi in Italia perché manca e perché no, creare una rete di connessione con altri centri di ricerca dell'estero.